Ora riaccendiamo i riflettori sulle problematiche che affliggono i quartieri della città di Cremona. Alcune sono comuni, come quella della sicurezza, che è spesso al centro di incontri e di dibattiti. In particolare, recentemente, si è parlato del controllo di vicinato, che consiste nel promuovere l'organizzazione tra vicini per controllare l'area intorno alla propria abitazione. Per parlare di queste tematiche, è nostro ospite in studio Stefano Bocci, consigliere del Comitato di Quartiere 10, che è il quartiere Po. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Dunque, la sicurezza è sempre la cosa più sentita? Sì, la sicurezza, fra tutte le varie cose, è senza dubbio la cosa più sentita, perché è quella che mette a repentaglio i nostri cari, la nostra casa, la nostra vita, la nostra sicurezza, è chiaro. Un nostro concittadino che abita nel nostro quartiere ci ha segnalato l'associazione sul controllo del vicinato. Noi ci siamo informati, abbiamo organizzato, era la sera del 21 aprile, un incontro fra noi e gli altri comitati, abbiamo invitato anche alcuni amministratori che non si sono visti tranne un consigliere di maggioranza. C'era il comandante e il vicecomandante della Polizia Municipale e abbiamo invitato un referente dell'Associazione Nazionale del controllo del vicinato, il signor Gianfrancesco Caccia. È venuto, ci ha spiegato come funziona. Vorrei subito fugare due dubbi, perché qualcuno ha pensato, ma sono le ronde. No, il controllo del vicinato non c'entra assolutamente nulla con le ronde, le ronde sono tutta un'altra cosa. E qualcuno ha parlato, ma è come fare delle liste di proscrizione, come mettere... Spiare anche in un certo senso, forse. Sì, esatto, c'è la privacy. No, insomma, se uno cammina per la strada non credo che possa invocare tanto la privacy. Comunque, nessuno che si trovi a passare per una via sarà additato come delinquente, ci mancherebbe altro. Il controllo del vicinato è solo intessere una serie di relazioni fra vicini di casa, fra persone che abitano nello stesso condominio o vicini nella stessa strada, nello stesso rione. Insomma, conoscersi di più e poi tenere gli occhi aperti, stare attenti a quello che avviene nel proprio condominio o nella propria strada o quello che avviene nella casa davanti alla nostra. Un altro probabilmente dubbio da chiarire è legato al fatto che questo non va a sostituire l'azione delle forze dell'ordine. Non è un'antitesi fra i cittadini e i gruppi che fanno il controllo del vicinato e dall'altra parte le forze dell'ordine. Anzi, deve essere una collaborazione fra gli uni e gli altri, fra i cittadini e le forze dell'ordine. Quindi quando uno vede qualcosa di sospetto, mi ero dimenticato, non deve limitarsi ad avvisare i vicini di casa. Se è una cosa molto sospetta, allora chiamare anche le forze dell'ordine. E questo potrebbe anche far nascere delle amicizie. E questo è il lato positivo, vero? E questo è il lato positivo. Bisognerebbe cercare di ricostruire quei rapporti che c'erano nei paesini di una volta. E ci sono altre criticità che riguardano il vostro quartiere? Ah beh, sempre sul tema della sicurezza c'è sempre il Parco Sartori che da anni è oggetto di gente che nottetempo fa quello che vuole, disturba e quant'altro. È partito l'anno scorso, in marzo, un progetto di questa amministrazione che è durato un anno. Un progetto che io sapevo all'inizio sarebbe costato 40.000 euro, poi più recentemente ho saputo 60.000 euro, non so esattamente. Un progetto educativo, non repressivo, un progetto che doveva avvicinare queste persone con lo scopo di farli sentire membri di una comunità, cioè abitanti di Cremona. Io sinceramente ho qualche dubbio su quello che sia stato fatto, perché sono state fatte, sono state organizzate alcune merende per qualche martedì pomeriggio in estate. E poi però che io sappia non è più successo, anzi si era parlato anche di fare una sorta di, adesso forse dico una cosa non giusta, mappe di comunità. Che io sappia non è stato fatto, non è stato fatto niente di questo, c'è stata una mostra di fotografie anche alla Copp di Via del Sale. Però che io sappia questi 40.000 o 60.000 euro sono finiti lì. Spero che sia stato raggiunto qualche risultato, ma questo lo vedremo nel corso dell'estate. Fra l'altro un progetto educativo così imponente, cioè che si rivolge a un così gran numero di persone non può durare un anno. Che cosa chiedete? Quali sono le vostre richieste all'amministrazione? Le richieste, ma intanto di controllare di passare e veramente non è il comitato di quartiere che lo chiedo io, dare le multe a quelli che parcheggiano di vieto di sosta perché alcune situazioni sono pericolose. Altra cosa è la comunicazione perché a volte capita che non ci avvisano di quello che stanno per fare. È chiaro che loro, cioè gli amministratori, non sono obbligati da regolamento ad avvisarci. Però insomma, un po' l'educazione vorrebbe che un po' più di collaborazione ci fosse. Noi diciamo a loro quello che facciamo. Continueremo a seguire quelle che sono le problematiche dei quartieri. Noi oggi ringraziamo Stefano Bocci, consigliere del comitato di quartiere 10, che è il quartiere Pò di Cremona, per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Grazie.